Credo che ormai tutti conosciate un po' quello che è stato il fattore Vannacci, il libro scandaloso che ha scritto Ormai quasi un anno fa, perché è passato quasi un anno, ti rendi conto E solo adesso è venuto fuori il verdetto finale della giuria chiamata Opinione Pubblica Questa giuria di cui io continuo a sciacquarmi il culo perché c'ha un giudizio che è tanto discutibile E cos'è che è successo? Semplicemente hanno sospeso il generale Vannacci e gli hanno dimezzato lo stipendio Semplicemente per delle affermazioni che per quanto discutibili rimangono affermazioni E se noi ogni volta che qualcuno dice un'affermazione che non è politicamente corretta Perché ritorniamo a parlare di politicamente corretto perché purtroppo c'entra anche qua Dobbiamo sospendergli il lavoro, dobbiamo dimezzarli senza un motivo valido lo stipendio Ragazzi miei, che cazzo di paese ci ritroviamo? Quelle dichiarazioni là Alla figura professionale di Vannacci come generale Che cosa gli hanno tolto? Niente Se un generale è omofobo vuol dire che non sa fare il suo lavoro? No Se un generale non rispetta i suoi sottotenenti Se un generale non è capace di guidare un plutone dell'esercito Gli dimezzi lo stipendio o lo degradi Ma non perché ha fatto delle affermazioni discutibili Quindi tu dici che l'opinione pubblica ormai ha perso il seno della ragione, il concetto della ragione Boh, ma il fatto che l'abbia persa ormai si capisce da tanto tempo Si è risaputo E il problema qua non sta nel cosa dice l'opinione pubblica Che per carità è un problema il fatto che l'opinione pubblica voglia impicciarsi adesso anche delle questioni personali e private e lavorative delle persone Quando non c'entrano minimamente col fattore in questione E il problema qua sono le persone che si sono sentite in dovere di sospendere una persona che a livello professionale non ha fatto niente per meritarsi quella sospensione Semplicemente perché se no la gente gli stava con le pezze al culo Il generale Vannacci l'hanno sospeso Non perché, oh mio dio, ha fatto delle affermazioni scandalose L'hanno sospeso Perché semplicemente se non lo sospendevano Gli rompevano il cazzo Se non lo sospendevano C'erano gli attivisti della comunità LGBT Gli attivisti della comunità femminista Perché femminismo intersezionale Parliamo anche di quello Che gli andavano sotto casa a battere alle porte E dirgli Scusa, guarda, il tuo dipendente ha fatto delle affermazioni transfobiche Ha fatto delle affermazioni omofobe Ha fatto delle affermazioni razziste Com'è che non lo sospendete? Com'è? Dato che in questo momento ci vogliete togliere i diritti Com'è che non ci aiutate? Com'è che adesso ci mandano merda addosso e voi non ci aiutate? Perché se adesso te, c'hai le tue idee E ti permetti di fare delle affermazioni razziste, transfobiche, omofobe Non puoi più vivere Non ti meriti di vivere Aspetta, aspetta, aspetta Quale sarebbe il collegamento della sospensione di Vannacci con le femministe? La comunità LGBT critica da una vita Questo governo Perché comunque è governato da niente popo di meno che Giorgia Meloni Sappiamo le sue idee È inutile presentare il suo partito Fratelli d'Italia È inutile persino presentare la destra in generale Sappiamo le idee, è tutto Quindi il governo italiano può anche non fare niente riguardo alla questione di Vannacci Come mai tu pensi che le organizzazioni LGBT Oppure, che ne so, le femministe Possono dare un impatto fondamentale Ma perché semplicemente? Ma sai qual è il problema? Perché lo vedi ultimamente molto spesso Quando succedono queste vicende così scandalose Come quella di Vannacci Quando delle persone fanno delle dichiarazioni forti Che in questo momento storico Non sono viste come politicamente corretto C'è quello che è un po' il fenomeno dello tsunami Come mi piace chiamare a me Lo tsunami dell'opinione pubblica Che arriva con un Oh mio Dio forse non dovresti dire questa cosa Con Facciamo le manifestazioni E dopo le manifestazioni Iniziamo a rompere il cazzo alla gente Al datore di lavoro di questa persona Perché fidati che sono capaci di fare una cosa del genere Andiamo a rompere il cazzo al datore di lavoro E perché questa persona qua ha detto queste cose E te non l'hai rimproverato Si cerca sempre di voler rimproverare queste persone E da una parte è giusto Perché bisogna educare le persone Al fatto che l'omofobia La transfobia L'antimmigrazione Il razzismo Il sessismo L'antisebitismo Sono delle cose sbagliate E credo sia scontata sta cosa Però il problema qua sta In quello che poi È una sorta di A me fa schifo sentire sta cosa Quindi per cercare di educare le persone A non farle più dire questa cosa Nessuno la può dire Perché ormai la battaglia del Riconosciamo le discriminazioni verbali E un non io esprimo una mia opinione Per quanto discutibile Te mi dici no sei un coglione E quindi inizia a dibattere con me A livello di dialettica Su quello che ho detto No Dato che noi stiamo combattendo Per avere dei diritti Dato che te quindi Fai delle affermazioni Che sono razziste Non è che io ti spiego Perché sta cosa è sbagliata Io ti faccio star zitto Io ti sospendo Dalla carica lavorativa Io ti dimezzo lo stipendio Perché così Dobbiamo dare un messaggio Agli italiani Che sono ancora A seguire Quella scia Del vecchio Stereotipo Sessista Razzista Degli anni 40 50 60 In cui Gli immigrato Puzzava In Maroc Quello che vuoi Gli zingari E quindi L'unico modo Che troviamo Per educarli E fare questo Come parallelismo Che sembra Non c'entri un cazzo Il ban di Sdrumox Va bene Probabilmente tanta gente Non conoscerà Sdrumox Dare un esempio Forte Di posizione Nei confronti Di quella tematica E allora Dato che Sdrumox Ha detto qualcosa Che decontestualizzata Sembrava un'affermazione Razzista Per quanto non sia stata Un'affermazione razzista Per dare un esempio Hanno deciso di bannarlo Stessa cosa hanno fatto Con Valtacci Per dare un esempio Di ciò Che non va detto E di ciò Che potrebbe essere Lesivo Per quella Che è una battaglia Di diritti Che stanno portando avanti Certe minoranze Automaticamente Lo cancelliamo Perché è più semplice Perché se Io non c'ho nessuno Che mi dice le cose Che non mi piacciono E che mi vanno contro Io posso fare quello che voglio Ma questa è censura È sbagliata Eh appunto sì Perché per il semplice fatto Che censurare Le filosofie O comunque Le idee Degli intolleranti È sempre comunque La meno saggia Delle decisioni Questo lo diceva anche Il nostro amico Carl Non vado avanti Col cognome Perché altrimenti Purtroppo Lo conosciamo molto bene Il nostro amico Popper In un certo senso La soppressione Delle idee di Vannacci Potrebbe in un certo senso Portare ad una Maggiore Popolarità Delle sue idee Ma soprattutto La gente potrebbe anche Sostenere le idee Di Vannacci Perché comunque Quando tu amplifichi Così tanto Le idee di una persona Succede che Non ottieni L'effetto Che tu desideri Ma ottieni L'effetto contrario Basti pensare Che il mondo Al contrario Il noto libro Del generale Come tutti noi Ben sappiamo Ha avuto Un boom Di vendite Se non erro Su Amazon Era il secondo libro Più venduto In Italia Ha fatto Un best seller Questo perché Chiaramente È diventato Uno scandalo Mediatico Quello che lui Ha scritto E tutte queste Questioni Che riguardano La sospensione Delle sue idee E quant'altro Può portare Ad una maggiore Rappresentazione Popolarità E quant'altro Basti pensare Che poi Salvini Quando ha scoperto La questione Di Vannacci Si è buttato A capofitto Questo perché Perché durante Le presentazioni Dei libri Di Vannacci Sono scese Le persone La gente semplice Che non sono Come gli intellettuali Quindi il vero popolo E Salvini Punta sempre A questo tipo Di elettorato E quindi Per una questione Di elettorato Salvini Ha deciso Di fomentare Vannacci E comunque Elogiarlo O fare Un po' Il volter Della situazione Durante L'estate Dell'anno scorso In cui ha detto Ragazzi Ascoltate Le opinioni Del generale Quindi Sentite Prima di parlare Gli immigrati In realtà Gli immigrati Gli obosessuali E questi invertiti Ai transessuali E gli operai Ai professoroni E questo governo E la sinistra E il ponte Sullo stretto E facciamo il ponte E facciamo sti posti di lavoro Sì Salvini lo conoscevo Purtroppo Un po' questa Questo vizio politico Di volersi infiltrare In qualsiasi strozzata Succeda Quando te vuoi Pigliar voti E oh mio dio La cicada salta Per la prima volta Dopo cento anni Eh sì Perché è colpa Della sinistra Che strano Non me la sarei mai Aspettato Un atteggiamento Del genere Da Matteo Salvini Eh beh ma soprattutto Poi con il movimento Del politicamente corretto E quant'altro Salvini proprio Ormai Come dire Ha un sacco di materiale Ha un sacco di content Ma si fa i segoni A due mani Salvini Sul politicamente corretto Salvini è anche È un po' come noi Salvini Vuole cercare un po' il content Ma c'è sì Peccato che noi siamo Un programma radiofonico Di opinionismo e attualità Lui è un politico Che dovrebbe pensare Al benessere dei cittadini A me il benessere dei cittadini Non frega un cazzo Certo Per grittà Il opinionismo e l'attualità È proprio Uguale a noi Vedi Solo che lui è un partito Noi non ce l'abbiamo Per il resto Per il resto Hanno fatto il partito Della gaina Io voglio anche il partito Di goccio e l'assenza Mi dispiace Non credo Non hanno fatto il partito Della gaina Certo che hanno fatto Il partito della gaina Per forza che hanno fatto Il partito della gaina Ma cosa Nevio l'ho stirato E quell'altro Beh ovvio Scusa Che cazzo No comunque sì Il discorso che facevi tu Sul fatto del Povera Italia Sì povera Italia A prescindere Ma il discorso che facevi te Sul fatto del Adesso hanno troncato E hanno censurato Usiamo la sta parola di merda Che ha tanta gente La fatica Hanno censurato Vannacci E adesso che hanno censurato Vannacci La gente può tranquillamente Prenderlo come Il paladino Della lotta Contro il politicamente Corretto Perché questo È il cazzo di problema Perché tutta Sta vicenda Qua del Oh mio dio Vannaccia Ha fatto delle affermazioni Razziste Delle affermazioni Omofobe E quindi noi Lo censuriamo E può andare tranquillamente A fare in culo Tutta la lotta Dei diritti Che si sono portati avanti In questi anni La comunità LGBT Perché ragazzi miei Se questo È l'esempio Che viene dato Da certe persone E da una certa Opinione pubblica Perché se sta cosa Non la facevano L'opinione pubblica Sicuramente rompeva il cazzo Come pretendete Di portare avanti Delle campagne Di sensibilizzazione Se l'unica arma A vostra disposizione È che sfoderate Molto volentieri È la censura Che lotta Dei diritti è Come si fa A educare le persone Io cittadino medio Come faccio a capire Che quello Che ha detto Vannaccia È sbagliato Se l'unico esempio È l'unica punizione Correttiva Che mi dai È la censura Io non imparo Niente Soprattutto Quando una certa Sinistra Non spiega Neanche le motivazioni Per la quale Quello che dice Vannacci È sbagliato Cioè io non ho sentito Nessuno dire Perché le frasi Sono antiscientifiche E quant'altro Cioè per smontare Un generale O per vincere La lotta Per i diritti E quant'altro Bisogna essere Capaci nel dibattito Mi è capitato Di sentire Carli Tomasini Non so se è un attivista trans Perché poi A lei non piace Il termine attivista Però comunque Che è andata Da Marco Merrino E ha detto Gli attivisti Di una volta Andavano a parlare Con le persone Che la pensavano Diversamente Il problema principale Dell'attivismo Di oggi È che ormai È diventato Una cosa Un po' Possiamo dire In un certo senso Discutibile Perché attivismo Non lo si fa Sui social Facendo i soliti post In cui praticamente Questi post Li vedono Le solite Quattro persone Che sono d'accordo Con te L'attivismo Si fa attraverso Il dibattito L'attivismo Si fa attraverso Il debunking Marco Cappato Noto attivista Radicale Per i diritti Dell'eutanasia Non si limita A dire Censuriamo Simone Pillon Oppure Togliamo La carica Da politico A Simone Pillon No 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 Lui ci va a parlare Con Simone Pillon Basta soltanto Vedere Il dibattito Che ha organizzato Ivan Grieco Sul suo canale Twitch Tra Pillon E Cappato Ma così Si fa attivismo Attivismo Si fa facendo Appunto Del debunking Ma soprattutto Una delle migliori Visioni È non dare Le attenzioni Alle persone Del calibro Di vannacci Perché sono solo Le attenzioni Che danno Più potere Alle idee Quello che Noi possiamo Fare è Contrastare Il tutto Con delle Argomentazioni Serie E poi Smettere Di parlarne Totalmente Il problema Principale È che Nei social La gente Ha scritto Sono indignato Sono indignato Sono indignato E basta Ma cavolo C'è un generale Che dice Delle cose Dice anche Delle cose Che Cioè Proprio Che sono Delle robe Totalmente Fuori di test Soprattutto Quello Che ha detto Su Paolo Egon Che Veramente I tratti Somatici Che non Rappresentano L'italianità Ma Cazzo Stiamo parlando Che cazzo Sono i tratti Italiani Cioè che è una roba Sì ma che è una roba Veramente Complessissima Che poi siamo Un popolo Che ha Mille origini Diverse Ora Non voglio Parlare di questo Perché poi Non sono neanche Un professore E neanche una persona Comunque Con Dele giuste Competenze Ma Sti cazzi Dell'identità Somatica Degli italiani Il grandissimo Problema È che L'attivismo Di adesso È fatto per gioco Non viene più preso Sul serio L'attivismo L'attivista Medio Di oggi È Io gioco Io gioco A fare l'attivista Io mi diverto A fare l'attivista Per carità Neanche in cattiva fede Perché può tranquillamente Essere che quella persona Sia dedita alla causa Che gli piaccia E sia legato In qualche modo A quella che è la causa Che porta avanti Però ci gioca Ci fa il giochino Parla con gli amicobili Dicevi te Parla con quelle quattro persone Che boh Non sono quattro persone Quelle cento Che siano quattro Che siano centomila persone Che la pensano come te Non cambia un cazzo Non cambia un cazzo Che siano quattro Che siano centomila Che siano un milione di persone Che la pensano come te Che non fai l'attivista E questo succede Quando c'è gente Che gioca a fare l'attivista Dobbiamo rovinare La vita delle persone Perché dobbiamo Togliergli metà Dello stipendio a vannacci Perché dobbiamo Sospenderlo Perché noi piace giocare A fare gli attivisti Perché in realtà Noi non siamo capaci Di andare da vannacci E dirgli Hai detto delle stronzate Noi non siamo capaci Di farlo Noi siamo capaci Di dirgli Vannacci caccapopu Vannacci caccapopu Lo censuriamo Perché quando io Non so parlare E io non so dire le cose Non so argomentare Censuro Che cazzo facevano Le dittature fasciste Le dittature comuniste Censuravano Vogliamo essere uno stato democratico Vogliamo insegnare I diritti e il rispetto Della gente Non censuriamo le persone Perché non serve a niente Cazzo serve sta cosa La gente Dalla censura di vannacci Da quella che è stato Il dimezzamento Dello stipendio di vannacci Che cazzo ha capito Sulla questione razzismo Che cosa ha capito Sulla affermazione Che ha fatto vannacci Non ha capito niente È rimasta là Non solo Ma c'è anche più consenso Certo Di vannacci Quindi Vuoi sopprimere un'idea Ma poi in realtà Gli dai un potere Molto più forte Di quello che è E noi Ragazzi miei Abbiamo una destra Al governo Non una destra Come quelle Di Berlusconi Che sono come dire Delle destre tranquille No no questa è una destra Che è conservatrice Una destra Che non abbiamo mai avuto In tutti questi anni Di Italia Repubblicana Questo è uno dei governi Più a destra Che abbiamo mai avuto Perché la sinistra ha perso E noi cos'è che facciamo Impariamo a perdere Cioè non cerchiamo neanche Di prendere Le nostre sconfitte E dire Ok adesso noi facciamo Una cosa fatta bene No Non facciamo una cosa fatta bene Facciamo le cose Così Censuriamo un po' Non riusciamo ad affrontare Quello che è un dibattito Ma non funziona così Tu devi fare Del debunking Cioè cavolo La questione di Vannacci Poteva aprire Moltissimi orizzonti Moltissimi orizzonti Anche A diverse persone Per poter parlare Di cose Molto interessanti Su Che cos'è l'italianità Che cos'è il concetto Di etnia Perché è sbagliato Dire Cari omosessuali Normali Non siete Cioè Si potevano fare Tante cose Adesso che comunque Sui social Abbiamo tanti psicologi Avvocati Tanti professoroni Adesso lo dico alla Salvini Abbiamo tutte queste persone qua Cavolo ma Sfruttiamole Sfruttiamo comunque Internet Cioè Tanto che a sinistra Dicono intellettuali Intellettuali Ma Io ho visto poche robe intellettuali Io ho visto tanto sensazionalismo E tanto Commento indignato Su threads Dove dice Sono indignato Vannacci Ha detto Che il cielo è verde Che chifo Brutto cattivo Sì ma sai cos'è Quando te censuri Vannacci Gli stai dando ragione Se io come persona Mi permetto di censurare Vannacci Gli do ragione Cioè porca troia Ma veramente Ma siamo seri Ma lascia stare Gli aumenti l'autostima Ma quel libro di merda Che è schiamato Il mondo al contrario Che è un tripudio Di stronzate Di cose scientificamente Scorrette Prende valore Perché glielo stai dando Te censurandolo Cazzo Quando non si fa attivismo Quando la gente Non è capace Di fare i dibattiti Automaticamente La parte Che si è esposta Perché l'unica Che si è esposta Vince A tavolino Ma noi veramente Vogliamo far vincere Una merdata Come le dichiarazioni Di vannacci Che mi dicono Non hai tratti Somatici Dell'italiano Oh cari omosessuali Non siete normali Vogliamo veramente Far vincere Una ideologia del genere Cazzo ma Svegliamoci un attimo Ma anche noi Veramente Cerchiamo di sfruttare Queste occasioni qua E non lanciarle sul Oh mio dio Ti hai detto una cosa brutta Politicamente scorretto Ti censuro Vergognati Fai schifo Senza dirti in realtà Perché te cittadino medio Perché noi dobbiamo qua Quando succedono ste cose qua Non dobbiamo andare A prendere E influenzare I professoroni Di sto cazzo Perché non serve a niente Influenzare i professoroni Di sto cazzo A noi serve influenzare Le persone Sono le persone Che dobbiamo fargli capire Perché l'affermazione Di vannaccio è giusta O perché l'affermazione Di vannaccio è sbagliata Ma se te La risposta unica Che dai Non è No Ha sbagliato Perché scientificamente Questo non è vero No ha sbagliato Perché in realtà I tratti somatici Dell'italiano E' più difficile La l'unica risposta Che dai Vannaccio Cacapuputti Censuro Dove andiamo a finire Da nessuna parte Vannaccio Rimane sempre Quel personaggio Che per carità Ha avuto Una caduta A livello di Credibilità Umana A livello di Credibilità Umana Non lavorativa Non rompete il cazzo A vannaccio A livello lavorativo Per le sue idee Perché la mia idea Non deve influenzare La mia posizione Di lavoro E' una stronzata Che vi siete messi in mente Con questa cultura Del politicamente corretto Avete rotto i coglioni Non serve A niente Basta Se vannaccio Dice una cosa brutta E cattiva Lui Come persone Come dignità Di persona Perde E il problema È che se Noi Lo censuriamo La gente rischia Di ritrovarci Veramente un simbolo Da seguire E non è un bel simbolo Da seguire L'ideologia del generale Vannacci E non ha senso Andare a ledere Professionalmente E privatamente Perché dimezzare Lo stipendio Se ti da oggi a domani Ti dimezzano lo stipendio Perché hai detto I gatti mi fanno schifo Boia Ci rimani di merda E come pensate Che si sia sentito Vannacci Quando gli hanno dimezzato Lo stipendio Perché ha semplicemente Espresso le sue opinioni Di merda Come pensate Che ci si sia sentito Di merda Ma per forza Ma perché te stai rovinando Quella che è una carriera lavorativa Ti stai rovinando La vita di una persona Dimezzandogli lo stipendio E sospendendolo dal servizio Gli tiri via Quella che è Un'entrata economica Che va bene Lasciamo stare L'ambito prettamente economico Per quanto sia importante Ma gli tiri via Una dignità lavorativa Vorrei un attimo Dire una cosa Alcune persone Ci hanno detto Che noi siamo Dei saputelli Boh Poi dopo la gente Punta sempre il dito Contro Emanuele Povero Che Però molte persone Ci hanno dato Dei saputelli Come delle persone Che hanno la verità In tasca Ragazzi Siete dei coglioni Non mi ascoltate E ste cazzo di puntate Di merde Non fermatevi alla copertina Ma Trasciando questo Ma ragazzi Se volete Magari anche Scriverci il tutto Va bene E siamo d'accordo Ma non è che abbiamo La verità in tasca Le nostre idee Noi le possiamo Sempre comunque Cambiare E quant'altro Quindi la gente Che ci dice Che noi abbiamo La verità in tasca Cioè Secondo me Non hanno capito Veramente Chi siamo noi Che noi siamo Un programma Che vuole cercare Di far ragionare La gente Poi uno può anche Essere in disaccordo Poi possiamo anche Noi commettere degli errori Però comunque Io la chiudo qui No ma Ignora sta persone Ignora Alleviatamente La sento Non ho ancora Neanche capito Che cazzo è L'opinionismo C'è gente che mi viene Sotto nei commenti A dirmi Ma dammela Te la soluzione Non te la devo dare Io la soluzione Non sono l'attivista Di sta minchia Non siamo degli attivisti Ragazzi Cercate di capire Il lavoro Che stiamo facendo Perché veramente Io mi rompo il cazzo Se no devo fare Dobbiamo fare Il video di presentazione Buongiorno a tutti Amici di youtube Io sono Bicco Pallo Lui è Francesco Che chi noi Facciamo opinion Che cazzo siamo Nel 2015 Siete rincoglioniti Avete dieci anni Che non sapete Che cazzo state guardando Cioè no no Per carità Non offendiamoli Perché li voglio troppo bene Teniamoci la parte Di community fascisti Che ci abbiamo No nel senso Nel senso No Comunque noi diciamo Sempre che quello che dice Cioè Quello che dice Vannacci è sbagliato Quindi fanculo i fascisti Lascia stare Che decontestualizzeranno Come sempre questa puntata E la useranno Come cazzo voglio Non lasciali fare Grazie a tutti